Allora, vediamo un po' di conoscere meglio questo ragazzo, un ragazzo giovanissimo, che però fa il comic, il cavarettista, diciamo, in maniera anche un po' storica, se vogliamo. Sì, ti ricalco un po', l'avete cominciato? Nome Ottavio. Ottavio. Io voglio... nomi veri, eh? Non si prego. Cognome. Buonomo. Buonomo. Nome d'arte? Ottavio Buonomo. Ottavio Buonomo. Segno geocale? Bilancia. Bilancia. Siamo nel periodo. Hai fatto qualche disco, per caso? Sì, ho fatto nove album, ora esce il decimo. Tutti di macchiette, di canzoni divertenti, canzoni umoristiche. Quindi di fudine che si possono anche vedere. Benissimo, qualcosa ce lo lasci, eh? Sì, 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 c'è qualche cd, qualche cartolina che pure, qualcosa si è appresso. Hai un hobby? Nobby, la buona cucina, se può essere un hobby. Dopo ti portiamo a mangiare e poi ci darei un giudizio. Va bene. Allora, c'è una canzone preferita, una canzone che ti piace più di tutte le altre? Sì, che ho qua, e due gemelle, che è una vecchia macchietta napoletana, che io faccio sempre con il pubblico. E poi, e due gemelle, belle, 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 belle. E di solito, quando la faccio sulle piazze in idea, rinvito una signora e un signore, che mi fanno i due gemelli di lato. Non ti dico poi quando ritrovo. E come fa la canzone? E voi due gemelle, belle, 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 belle. O ma schiaffo nel, belle, 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 belle. O vuoi di un bel con me, io vuoi di un bel con te. Vru! Che c'è il gesto, che c'è il gesto che fanno tutti i marchiettisti. Che io invito tutti quanti a fare. Attenzione, ecco, che devi alzare. Inquadrato. Posso, scusate. Vai fuori del quadrettino. Scusi, commissario. Inquadrato. È vero. Passato, presente o futuro? Ma meglio il presente. Meglio il presente. Colore preferito? Io, rosso. Rosso. Hai un piatto preferito, dato che sei amante. La pizza. La pizza come? La pizza, ma in tutti i modi possibili e immaginabili. Basta che sia buona. Beh, sia buona. Ecco. Se tu fossi un animale, cosa saresti? Fossi un animale? Il pidocchio. Il pidocchio. Perché sta finta in testa. Questa non me l'ha aspettato. È la prima volta che... Va beh. Allora, la tua giornata tipo, quale sarebbe? Come fai? Di mattina mi sveglio verso sette e mezza, otto, faccio una colazione leggera. Poi dopo vado, diciamo così, un po' in giro dai miei allievi perché insegno recitazione. Oppure nello studio di registrazione, dipende dai giorni. Poi torno a casa per pranzo, se pranzo a casa. Poi pomeriggio prove, di sera o spettacolo o prove, dipende da... Dipende. E poi torni a casa. E poi torno a casa proprio. Se tu fossi un film, che film saresti? Tempi moderni. Tempi moderni. Io ce la ricevo. L'ho già persa. Va beh, è tremendo. Senti, una cosa. Sai ballare? La prossima domanda, Lucia. Una sola volta, andate. Allora, non sai ballare ma sicuramente sei simpaticissimo e sa far divertire il pubblico. Molto bravo. Ottavo e buon uomo. Grazie. Grazie. Grazie.